È stata una bella emozione riuscire a vincere questa partita che non era facile, è una partita combattuta e siamo riusciti a regalare ai tifosi questa gioia. C'è un po' di rammarico perché penso che la seconda parte di stagione abbiamo fatto molto bene a livello di prestazione, abbiamo fatto ottimi risultati. C'è il rammarico di essere partiti con questa penalizzazione, con un campionato già iniziato, aver fatto un mercato quando è già iniziato il campionato. Anche se ci fossero riusciti a partire dall'inizio come tutti, ovunque vai ti rimane qualcosa e ti insegna comunque qualcosa. Alla fine io qua sono stato bene come ambiente, come squadra, come gruppo, come tifosi. La mia famiglia si è trovata molto bene, quindi sicuramente magari a livello di campo è stato un po' più travagliato rispetto agli altri anni. Però alla fine sono contento perché il mio spazio lo sto trovando, l'ho avuto. È una gara complicata sì perché noi dobbiamo fare punti ma anche loro hanno bisogno di fare punti, quindi verranno qui mettendocela tutta, stando attenti a non subire, a cercare di non prendere gol, a chiuderci tutti gli spazi. Noi dobbiamo avere la pazienza, la capacità di gestire le situazioni e cercare di sfruttare le occasioni che ci possono creare, che sono anche le palline attive, visto che comunque alla fine fanno anche la differenza.